Eccoci. parere contrario, 16.7 invito a ritiro a parere contrario, 16.8 invito a ritiro a parere contrario, 16.9 invito a ritiro a parere contrario. Grazie, Governo. Sì, grazie. Pareri tutti conformi al relatore, grazie. Grazie. Vogliamo fare anche due aggiuntivi, visto che ci siamo, ma sì. Allora abbiamo il 16.01, onorevole relatore, 16.01 e 16.02. 16.01 invito a ritiro a parere contrario, 16.02 invito a ritiro a parere contrario. Grazie, Governo. Grazie, conformi al relatore. Bene, allora siamo al 16.1 Sarti, se non vi sono richieste di intervento lo poniamo in votazione, parere contrario, relatore e Governo, la votazione aperta. Ci siamo? Schirò. Schirò. Onorevole Martella. Ok, la votazione è chiusa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.